Oggi ha un significato particolare, è ovvio anche se la Coppa Italia, l'ho detto, è una manifestazione che ha il suo fascino in tutto quello che succede in questi giorni, in questi quattro giorni un po' di follia, però per noi è chiaro che dopo un ciclo straordinario forse irripetibile, con tutti che ci dicevano che non partivamo con i favori a settembre e avendo avuto veramente di tutto, perché i giocatori che erano più in forma, su cui avevamo costruito un sistema, insomma lo sapete, arrivare a questo momento della stagione e vincere un trofeo, anzi a dire la verità con questa squadra abbiamo vinto l'ultimo trofeo del 2010 e il primo del 2011, con una qualità anche di gioco che è rara in partite così ravvicinate, perché giocavamo contro una squadra che gioca un palacanestro eccellente nel miglior momento di produzione di questa loro palacanestro, che insieme da un anno e mezzo aveva extra motivazioni per questa Coppa e quindi sai, per un allenatore di là della vittoria, c'è proprio tutto questo significato dentro che, insomma, eravamo veramente in condizioni difficili oggi per vincere per tanti motivi. Beh, ma ho perso altre, ho perso una partita che abbiamo giocato benissimo per approcciare le Final Four, poi le eliminazioni, sai, qui sono tutte finali, quindi so cosa significa, l'allenatore si ricorda sempre che perde, però, insomma, io credo che bisogna andare oltre veramente a questo, a vincere e perdere, bisogna capire quando c'è qualcosa dietro di importante, perché credo che oggi, insomma, abbiamo dimostrato questo. Poi potevamo perdere oggi questa finale, anche se poi l'abbiamo vinta senza rischi, abbastanza in controllo per quello che può essere una partita così dura, così equilibrata, però avevamo comunque, ero soddisfatto di aver giocato, di essere arrivato alla finale oggi, perché abbiamo dimostrato che Siena c'è, che ci sarà, ci sarà fino in fondo, se recupererà gli infortunati, se perderà altri pezzi, non dico che vincerà, ma ci sarà, con questo nuovo percorso che abbiamo iniziato, abbiamo dimostrato a tutti, anche con questa finale, di riescerci, poi le vinci o le perdi le finali, ma per un allenatore sa quanto è importante la costruzione, il percorso e questa squadra ha già dimostrato di costruire e di esserci la cosa più importante, a quel punto ero sereno, per una finale come questa sarei stato sereno a prescindere. Come ci hai visto oggi, nei momenti topici del match, la vostra abitudine a vincere, la vostra mentalità vincente, la vostra esperienza nel vincere? Sì, è vero che, è anche vero però che, sai, la mentalità vincente si costruisce solo vincendo, perché perdendo non acquisisci la mentalità vincente, e molti dei miei giocatori sono la prima vittoria importante, avevano vinto la Supercoppa, avevano una competizione così, sono la prima vittoria importante, quindi direi che hanno avuto un grande approccio, hanno voluto far pesare con tutto se stessi quanto si erano spesi nei mesi precedenti per costruire qualcosa di importante, e allora sì, poi dopo in fondo, avendola vinta, possiamo dire che abbiamo avuto una mentalità vincente. Grazie.